Ciao, io sono Minena, sono un'esperta di grafica 3D e voglio proporti un corso su Blender per quanto riguarda le proprietà fisiche. Ho creato questo corso di 24 lezioni sottotitolate in italiano per aiutarti a creare in Blender fuoco, fumo, gas e liquido. So che non è facile ma le proprietà fisiche di Blender sono uno strumento eccezionale e anche molto divertente. Quindi ho deciso di mettere in vendita sul mio canale Gumroad ad un prezzo davvero eccezionale questo corso per tutti voi che potrete guardare e rileggere in qualsiasi momento della giornata. Sono dei video che potrete scaricare dal mio canale Gumroad, link in bio. Ma cosa si può fare con le proprietà fisiche di Blender? Guardate questi video! Ciao! 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 Ora che avete visto le sue potenzialità non vi resta che acquistarla. Per qualsiasi necessità o chiarimento contattatevi e risponderò tranquillamente a tutti quanti e a tutte le vostre domande. Io vi ringrazio e vi aspetto su Gumroad.